Musica 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 Sono pensando a me che Voglio rivoluzionare l'uso del cuore Voglio dargli espressione Liberarlo dalle forme E il sogno Musica 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 Sono Armando Rulena, il maggiore dei figli della famiglia Rulena. Sono nato il 5 maggio del 1871 la nasce. Avevo 16 anni. Sono Anna Carbentus Van Gogh, la madre di Vincent. La mia famiglia e la mia casa erano sempre pronti ad accoglierlo. Vincent parlava sempre di me, anche nelle sue lettere. Il mio tradotto risale al periodo provenzale, fra il 1888 e il 1889, quando Vincent decise di trasferirsi nel meridione francese. Cercava una natura viva con colori splendenti. La mia famiglia è un'altra vita, ma anche alla mia famiglia doveva fare. La mia famiglia non si conosce, ma anche alla mia famiglia. La mia famiglia è di si. Ciao! Sono cammino, ho 18 anni che andavo passando, pensi a me e tutti i vostri amici, sono un messaggio che ci vedeva. La ferita è durata in un modo di confesso, è stato il suo sogno, è stato il suo sogno. Ho voluto mettere il risalto negli occhi attraverso uno sfondo formato da spirali di colore verde assenzio e turchese chiaro, molto tenue, ma rovellate in un concatenato. Grazie a tutti.